Salve a tutti, allora ci sono stati i primi concorsi relativi allo straordinario, quindi ovviamente tutto ciò può essere utile sia per chi si accinge a fare nei prossimi giorni il concorso, sia per chi ovviamente si sta preparando o si deve preparare per l'ordinario e vuole avere delle indicazioni di massima su cosa studiare. Allora come detto in tanti altri video vi posso ribadire che le prove del 2020 sono similari a quelle del 2016, vi avevo detto lasciate perdere tutte le altre prove o del concorso 2012, ho visto addirittura in rete girare alcune prove del ministero del concorso 1999. È sbagliato, perché si è passati da un'impronta prettamente nozionistica a un'impronta sicuramente che tiene conto anche della pedagogia. Relativamente a quanto mi è stato riferito e a quanto riferiscono insomma i candidati che hanno partecipato a queste prime sessioni, quello che esce di più, ma quello che già vi avevo detto che poteva uscire di più andando a vedere non solo il concorso che ho sostenuto io, ma i concorsi che hanno sostenuto anche i miei colleghi di altre classi di concorso sono essenzialmente inquadrare la classe di riferimento inerente ad un determinato argomento, questo in realtà uscì anche a me, eh, minato argomento e io vi aggiungo altro specificando anche in quale periodo dell'anno viene usualmente affrontato quindi inquadrare la classe di riferimento inerente ad un determinato argomento specificando anche in quale periodo dell'anno viene usualmente affrontato ovviamente quel determinato argomento che vi viene chiesto. Come vi ho anche fatto vedere nei video in cui bisognava progettare un'unità didattica di apprendimento, vengono spesso chiesti, viene chiesto di definire i prerequisiti definire prerequisiti relativamente ad un argomento, cioè tutto quello che lo studente deve sapere per poter comprendere e metabolizzare una nuova unità didattica, una nuova unità di apprendimento una nuova, una determinata, un determinato concetto, eccetera eccetera quindi ovviamente ci sono tante, eh, tante conoscenze, tante che sono propedeutiche per poter poi comprendere anche quello che c'è, che viene dopo essenzialmente questo vi viene chiesto. Poi ancora, questo, su questo ci... questa fu la grande novità del concorso 2016, adesso per voi secondo me non è più una novità competenze, abilità e conoscenze vi dico in breve, sinceramente non mi ricordo se già ci ho fatto un video comunque, ripassando velocissimamente quali sono le competenze che dovrete citare le abilità e le conoscenze, ricordatevi in questo essenzialmente che le conoscenze ve lo riscrivo qua, conoscenze, diamogli un colore giallo sono essenzialmente tutte le informazioni che vengono apprese tramite l'insegnamento e lo studio e quindi sono regate soprattutto alla parte nozionistica sono le nozioni le abilità, diamogli un colore blu sono rappresentano le capacità di applicare le conoscenze apprese per risolvere problemi e portare a termini determinati compiti o problemi quindi capacità di applicazione delle conoscenze le competenze cioè si diventa competenti quando si ha la capacità di unire le conoscenze le abilità le capacità personali, sociali e metodologiche quindi competenze conoscenze usiamo un po' di logica un po' di insiemistica unione abilità unione quindi è tutta è la somma di tutto ciò capacità personali personali sociali e metodologiche e metodologiche vi dico anche che le raccomandazioni dell'unione europea del 22 maggio 2018 individuano otto competenze chiave di base quindi poi se volete vi farò un video su questo la competenza alfabetica funzionale la multilinguistica la competenza matematica la competenza digitale che per noi è pontattissima su cui si basano tutte le TIC quindi le tecnologie innovative la LIM eccetera eccetera la competenza personale le competenze in materia di cittadinanza le competenze imprenditoriali e le competenze in materia di consapevolezza ci sono otto competenze di base che vengono dalle raccomandazioni europee del 22 maggio 2018 continuiamo con quello che relativamente con quello che sta uscendo come tracce per le varie classi di concorso e sicuramente collegamenti interdisciplinari quindi cercare di collegare una determinata cioè noi essenzialmente il sapere siccome il sapere è vasto siamo costretti a creare tante categorie tante materie per suddividerlo anche se il sapere poi è unico bisogna poi saperlo anche ricollegare allora noi come insegnanti dobbiamo essere comunque in grado di spaziare e di dare comunque ovviamente non è che possiamo essere chissà quanto competenti relativamente ad altre classi di concorso ma sicuramente dobbiamo avere delle idee di massima per fare dei collegamenti con relativamente ad altre discipline e anche fare dei collegamenti per contestualizzare ciò che diciamo alla realtà quindi tutto quello che può essere un beneficio cioè tutto quello che viene appreso come può essere tradotto come beneficio come surplus come valore aggiunto da spendere nella realtà poi riferimenti alle indicazioni nazionali per il curricolo quindi per la vostra classe di concorso andatevi se già non l'avete fatto spero di sì andatevi a vedere le indicazioni nazionali che sono i vecchi programmi in passato venivano chiamati programmi ministeriali indicazioni nazionali sicuramente esce esce sempre qualche domandina relativamente alle metodologie didattiche ve ne cito alcune più di qualcuna già l'ho trattata ricordatevi faccio un piccolo zoom mettiamo una percentuale stabilita da noi mettiamo un 110% perché altrimenti mi finisce subito la slide ok benissimo vado qui vi dico le aule disciplinali il circle il circle time su questo credo già di averci fatto un video sul cooperative learning ci ho fatto diversi video il debate o se lo vogliamo dire in italiano debate scritto la didattica integrata importantissima è anche la didattica digitale integrata didattica integrata ci ho fatto il video didattica laboratoriale vi trovate il video poi se volete se avete particolari richieste lasciatemele nei commenti laboratoriale didattica per scenari leas e qui mi fermo perché didattica per scenari e leas qui mi fermo anche perché sta finendo lo spazio poi strumenti gli strumenti da adottare anche se non è ancora cioè se non mi è stato evidenziato ripassatevi come affrontare situazioni con alunni stranieri con alunni H con DSA sicuramente uscirà non mi è stato detto che è uscito però i BES ve lo sottolineo quindi tutta la categoria dei BES come affrontare e gestire degli studenti BES all'interno di una classe assolutamente è da sapere poi definizione di laboratorio attività laboratoriale però rientra un conto è l'attività laboratoriale in effetti un conto è la didattica laboratoriale comunque attività laboratoriale poi alcuni di voi mi chiedono per queste prove computer basic come funziona quali sono i limiti allora risulta quasi impossibile inserire formule non avrete word excel dove mettete inserisci formula quindi se volete inserire una formula soprattutto per chi viene da un'area scientifica se dovete scrivere la forza è uguale m per a vabbè quello potete dire la forza è uguale al prodotto tra la massa e l'accelerazione però è ovvio che se le formule diventano abbastanza lunghe o se volete risolvere un'espressione dimenticate cioè non potete farlo poi ovviamente il consiglio che vi do è di gestire il tempo cercando di scrivere più velocemente possibile per ogni domanda e quindi casomai lasciatevi sempre una mezz'oretta alla fine perché potete tranquillamente andare dalla domanda precedente alla domanda successiva quindi magari poi rileggendo la potete un pochettino risistemare sappiate che i caratteri disponibili per rispondere alle domande sono limitati poi per ulteriori aggiornamenti siccome questo è quello che mi è stato detto ad oggi e vi ho aggiunto anche qualcosa ad esempio relativamente best che ancora magari non non mi è stato citato però qualcosa che vi dovete aspettare è questo ripassatevi qualcosa sulla normativa sulla valutazione sulla soprattutto cercate di stare tranquilli mi dispiace veramente tantissimo 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 per coloro che sono in quarantena o stanno male per covid e non possono fare il concorso questo veramente cioè mi piange il cuore mi dispiace veramente tantissimo per questa situazione io spero che cioè invito tutti a mobilitarsi io se ci sarà qualche mobilitazione la farò ricordate che quando non volevano far aggiornare le gradatorie ci siamo mobilitati in tanti anche su facebook e qualcosa è stato fatto bisogna aiutare quelli che non solo l'88% ha partecipato il 12% non lo so se si è rifiutato ma una buona parte sicuramente un 3-4% purtroppo c'è chi c'è il covid e c'è chi sta in quarantena e non è giusto perdere un concorso per motivi che assolutamente non cioè questa è veramente un'ingiustizia vanno fatte le prove suppletive sono state fatte nei vari anche nel concorso 2016 se ciò non dovesse accadere fate ricorso con ANEF tanto vedrete che ve lo accetterà il giudice darà ragione a voi farete ricorso e lo vincerete quindi anche per questo ci sarà qualche noia in più però bisogna lottare per ciò che riteniamo giusto e io in questo mi schiero è assurdo dire affermare proferire che siccome il concorso a settembre di medicina è stato fatto secondo queste modalità chi stava male e aveva il covid non poteva partecipare adesso che abbiamo 20.000 casi al giorno tra l'altro molti docenti vengono messi in quarantena a causa magari di non per causa loro sicuramente è assurdo pensare che questo possa essere motivo di esclusione nella parte finale sono stato cioè mi sono lasciato ad andare pensieri personali che desidero condividere con voi perché ovviamente questo è stata sempre la caratteristica un pochettino di questi video il fare i video in diretta il metterci anche un pochettino del mio cioè dirvi far trasparire anche i miei pensieri condividerli con voi commentarli confrontarmi sicuramente dare importanza a tutto quello che c'è da trasferire a livello di conoscenze di sapere e di esperienze che ho fatto ma sicuramente anche cercare un rapporto virtuale con voi che possa essere il più positivo possibile allora ancora vi auguro di continuare motivati più che mai nello studio e nel cercare di sfruttare al massimo tutte le vostre potenzialità un caro saluto ciao a tutti